Il dissesto non può durare all'infinito. Luigi Diego Perifano, leader di Alternativa per Benevento, lo ribadisce anche a margine della conferenza stampa convocata per presentare la squadra che lo affioncherà in consiglio tra i banchi dell'opposizione, dove ha precisato resteranno i vari gruppi della coalizione in campo per le amministrative, PD, Città Aperta, Civici e Riformisti, Centro Democratico, ma attenzione rivolta soprattutto a dissesto e PNRR e proprio partendo dalle procedure in atto dopo la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente che Perifano chiede tempi brevi e ribadisce. È necessario velocizzare le procedure, dopodiché c'è un problema tecnico che non è stato chiarito. C'è una relazione dell'Oslo nella quale si fa riferimento a somme che sono state introitate dal Comune e che viceversa erano di competenza dell'Oslo. Su questo non sono intervenuti i chiarimenti che avevamo richiesto, quindi nei prossimi giorni interesseremo il Ministero dell'Interno, la Prefettura, la Corte dei Conti, il Collegio dei Revisori per avere elementi di certezza. Tempi certi inoltre per il piano di ripresa e resilienza. È un'occasione straordinaria, unica ed irripetibile. Come ho documentato c'è stato già un primo buco nell'acqua perché il Comune di Benevento è stato escluso dai fondi del PNRR che riguardavano le scuole per l'infanzia. Di qui la richiesta di un Consiglio Comunale ad hoc. Noi chiediamo che vi sia un Consiglio Comunale che discuta esclusivamente dei progetti del PNRR e quindi che sia con chiarezza illustrata la programmazione strategica.